cioè la civetta la propria posizione e la propria abbandonata molto spazio una parte bassa vediamo la buona uscita da parte della chiocciola seguita da selva lupa e nicchio vediamo la contrada di san marco in prima posizione vediamo primo san martino con chiocciola a condurre seguita da nicchio e selva attenzione la selva ha battuto al colonnino se non ho visto male Susanna primo casato con la chiocciola in prima posizione seguita da nicchio e selva vediamo la chiocciola che viene superata da nicchio seguita dalla selva poi l'onda la chiocciola nicchio in prima posizione dall'esterno e la selva che prende la testa Andrea e Sanna sul tabacco si portano al secondo san martino gira molto bene la contrada di valle piatta che si avvia al curva del casato viene doppiato il val di montoni silva in prima posizione con l'esordiente Andrea Sanna sul tabacco vediamo adesso ha ripreso in mano il proprio cavallo viene doppiata la civetta vediamo ci abbiamo al terzo ed ultimo san martino con la contrada della selva a condurre l'andatura veramente molto molto blanda curva di san martino ci abbiamo verso la conclusione di questa quarta prova che ha fatto vedere dei belli spunti del primo giro adesso poi avremo occasione di rivedere vediamo dunque conclusioni di questa quarta prova che viene vinta la contrada della selva con Andrea Sanna sul tabacco arrivo al passo praticamente Grazie a tutti.